Assessore Williams Marinelli, questa sera grandi fuochi a mare dal Pontile Sirena per un'estate che è tutt'altro che finita e che vi ha dato grandi soddisfazioni. Sì, tantissime soddisfazioni. L'estate, come appena hai detto tu, non è finita, dura ancora fino a metà settembre. Questa sera avremo i grandissimi fuochi a mare che ormai è diventata un'istituzione per Francavilla al mare. I nostri cittadini ci tengono e noi offriremo loro questa sera questo bellissimo spettacolo. Poi continueremo con Alex Anconetane, Piazza Michetti. Dopodiché andremo avanti a cena con gli artisti sopra San Franco e concluderemo la stagione estiva con il concerto di Niccolò Fabi. È un'estate che non finisce e grandi spettacoli come del resto i nostri cittadini meritano.